Salve a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo episodio. Velocissimo, Marco Casario qui, un aggiornamento su quello che sta accadendo sul mercato delle criptovalute. O meglio, voglio riportarvi in realtà un paio di articoli che devono darvi degli spunti per riflettere. Siamo in un mercato profondamente ancora in flessione, non possiamo dire altrimenti. Sì, è vero, è un mercato, molti si dicono, non siamo in una flessione negativa, non siamo al ribasso, ma siamo in un momento di lateralizzazione. Ma direi che è vero fino a un certo punto, perché quello che vedo io invece guardando i grafici è che Bitcoin e le criptovalute provano ad iniziare delle inversioni della tendenza, provano un attimo ad assalire sopra determinati livelli di strutture di prezzo, ma vengono ogni volta respinti. Per Bitcoin questi livelli di prezzo, queste resistenze si trovano intorno ai 8.900-9.100 dollari in quel range. Ci sono dei grandi sell wall che ogni volta che il prezzo ci arriva viene, respinge in giù, verso il basso, il prezzo di Bitcoin, che continua a scendere oggi nelle ultime 24 ore, ragazzi, ha perso un altro 8%, quindi siamo intorno ai 7.900 dollari. E adesso bisogna vedere se avverranno due cose. Una, se il prezzo verrà spinto in basso fino ai minimi di febbraio, viceversa se continuerà a lateralizzare in questo range. Certo è che, ragazzi, mettetevelo in testa, deve esservi ormai chiaro, siamo in un momento fortemente ribassista. Servono volumi, devono entrare nuova liquidità, devono rientrare gli istituzionali, gli hedge fund, i grandi investitori, quelli con molti soldi in tasca, perché adesso c'è grande manipolazione sui mercati, perché adesso sono i grandi che riescono, essendo i volumi anche più sottili, ragazzi, siamo intorno ai 300 miliardi di dollari, essendo più sottili i volumi, è anche per loro più facile manipolarli. Comunque, alcune notizie, sì, notizie che credo in questo momento possono essere importanti. ICO, ICO, sapete che cosa dico sulle ICO, sapete che per quanto mi riguarda il mercato delle ICO è una giungla, c'è troppa immondizia, devono essere in qualche modo regolamentate, perché sono veramente ormai troppi progetti, tantissimi di questi progetti non hanno le gambe, tanti altri sono truffe, alcuni non vedranno mai la luce, non perché sono delle truffe, ma perché non hanno poi la forza di continuare, e vi riporto solo due esempi, ragazzi, che fanno davvero sorridere. Non so se vi ricordate questa ICO, Bitcoin, mi fa troppo ridere ogni volta che lo pronuncio, Bitcoin scritto con due I, doveva essere questo nuovo fork di Bitcoin, questa nuova ICO, e il testimonial era Steven Seagal, personaggio piuttosto famoso nel mondo di Hollywood, grande maestro di Aikido, insomma era la faccia, il testimonial di questa ICO. Bene, l'ICO è terminata, ha raccolto anche un discreto numero di investimenti, e lo sapete che cosa ha fatto dopo aver raccolto questi investimenti? Bene, ha semplicemente detto, ok, adesso il progetto lo doniamo come progetto open source, chi si è visto, si è visto, voi la community, se volete portatelo avanti, e arrivederci e grazie. Circa, bene o male, senza andare troppo negli aspetti, nei dettagli, questo è quello che è avvenuto. E vi dico, vi rendete conto ragazzi che anche le ICO, dove dietro c'è un personaggio pubblico, con una certa importanza, con una certa anche fama da farsi rispettare, nonostante questo, anche queste ICO finiscono in questo modo. Questa è una sconfitta per il mercato delle ICO e per il mercato delle criptovalute. E ve ne porto un'altra, la coin di Escobar. Insomma, ragazzi, ma vi rendete conto, c'è il fratello di Escobar, Roberto Escobar, credo si chiami, che ha lanciato, sta lanciando questa nuova ICO. Anche questo credo sia un fork della base code di Bitcoin. Addirittura ha detto di aver incontrato e aver discusso e parlato con Satoshi Nakamoto, quindi il fondatore, il creatore di Bitcoin, bene, che l'abbia incontrato, ci abbia parlato e si siano scambiati opinioni per evidentemente portare acqua al suo molino. Addirittura ha pubblicato una foto con la foto del passaporto di Satoshi. Insomma, ragazzi, follia pura. Cioè, vi rendete conto di che giungla stiamo parlando? Vi rendete conto che non è veramente più possibile fidarsi di nulla in questo settore? E questo settore porta immondizia e cattiva pubblicità al settore serio delle criptovalute che invece vogliono emergere, che invece sono progetti che vedranno la luce? Leggevo un altro articolo, un analista di un fund manager, di un'azienda che fa investimenti che ha scritto che il 92% delle ICO sono spazzatura, falliranno o perché sono truffe o perché sono progetti che non hanno le gambe per andare avanti e per vedere la luce. Solo l'8% e di questo 8% diceva che non tutte poi ovviamente saranno ICO che avranno successo, perché in queste 8% ci saranno quelle che si dovranno confrontare col mercato, che dovranno confrontare il loro business model sul mercato. Ma allora, ragazzi, ma di che mercato stiamo parlando? Ma che cos'è? Questo è solo un fenomeno che stanno, quello delle ICO, cavalcando molti volponi, molta gente con il pelo sullo stomaco, perché hanno capito che è facile far soldi, perché hanno capito che è facile vendere sell the dream, dicono gli americani, vendere il sogno alle persone di fargli pensare che possono arricchirsi velocemente, investendo dei loro soldi sulla carta, perché quando investire sulle ICO stare investendo sulla carta, vi state fidando di quello che quel progetto può, potrà diventare nel futuro, e hanno capito che c'è tanta gente che ci mette i soldi, disposta a sperare, credere di poter diventare ricco facilmente, e stanno cavalcando l'onda. Ecco perché, ragazzi, di ICO, ce ne sono migliaia in giro, migliaia di ICO, ma vi rendete conto? Non lo so, io è qualcosa che ormai veramente non approvo più, sapete che ne parlo in un certo modo da metà 2017, ho investito in pochissime ICO, quelle poche ICO in cui ho investito era perché le conoscevo personalmente, conoscevo le persone che c'erano dietro, perché ho avuto modo di parlare con loro, di condividere idee, progetti e visioni, per le altre zero, anche perché altrimenti, ma quanto vi ci vorrebbe, visto l'entità, la mole di ICO che ci sono sul mercato, quanto vi ci vorrebbe ad approfondire bene tutti quanti i progetti? Diventa un lavoro, e come tutti i lavori, ragazzi, poi quei lavori vi devono portare a casa lo stipendio e ci dovete campare, perché se dedicate 6, 7, 8, 10 ore al giorno a questa attività, vuol dire che quelle ore di lavoro le togliete a qualcos'altro, a altri progetti, al vostro lavoro, c'è anche un discorso di costo-opportunità. Riflettete bene, ragazzi, questo per dire, siamo in un momento del mercato di crisi, c'è crisi, c'è diffidenza e le ICO continuano a generare sempre più diffidenza su questo mercato, perché poi ci sono anche le truffe, non ce lo dimentichiamo, c'è diffidenza, c'è scarso interesse, i media cominciano a parlare sempre meno di criptovalute, tra l'altro sono tornati a parlare di criptovalute in un'accezione negativa e non più positiva come è avvenuto a fine novembre, dicembre, inizio gennaio, e questo non fa altro che buttare altro, un po' il seme del dubbio nei nuovi investitori, sui nuovi trader, nuove persone che devono rientrare su questo mercato. Ci servono volumi, ragazzi. Adesso possiamo solo stare a guardare. Adesso è veramente un mercato estremamente manipolato, dai big, dai grandi, dai whales, dai bad dogs, chiamateli come volete, ma sono loro che stanno facendo il bello e il cattivo tempo. Quindi, come al solito, modelli di money management stretti e rigidi, mi raccomando, non mettete a rischio il vostro capitale, perché una volta messo a rischio il vostro capitale, ragazzi, è finito il gioco, ok? Ecco perché va sempre protetto il capitale iniziale con cui si è iniziato ad investire in questo settore. Bene, ragazzi, ditemi che cosa ne pensate voi di questo momento, di questo fenomeno delle ICO, se anche voi pensate sia il far west. Lasciatemi un commento, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Ci vediamo presto in un prossimo video, perché voglio farvi un po' un'analisi. Bitcoin è vicinissimo alla debt cross, cioè l'incrocio della media a 200 periodi con la media a 50, si sono praticamente toccate oggi, si stanno baciando. Adesso bisogna vedere se la media a 50 periodi, quella veloce, scavalcherà, avverrà quindi il cross, scavalcherà quella a 200 periodi, rafforzando, è un indicatore, ragazzi, non è nulla di grave, ma è un indicatore che quando si verifica, rafforza ancora di più l'idea che ci troviamo in un momento di profondo trend ribassista, di profonda flessione. Bene, ragazzi, per oggi è tutto, che altro dirvi? Ci vediamo prestissimo, come al solito, buon trading a tutti, ciao!